Ah, Snoop Dogg mi ha giunto su Fuck e Book. Oh, bene. È tutto fantastico, ma... Ignora. Si chiama Facebook. Si chiama Facebook. È quello che ho detto? No, tu dici Fuck e Book. Hai detto Fuck e Book. A me sembrano identiche. Non lo sono. Guarda, dici... Come dici tu? Dici Fuck e Book. Dici Fuck e Book. Fuck e Book. Ora dici Facebook. Fuck e Book. L'ho detto bene, vero? No, hai sbagliato. Tu separi la E per qualche motivo. Tu metti Fuck e poi dai alla E un suo piccolo spazio. Come se fosse le brosa. È sola quella E, Dean. Sta tremando nel freddo, come tua nonna a Natale. Non conosci mia nonna, vive in Tenerife. E tu ingenuamente non sai di farlo, vero? Guarda la tua faccia. Non sai di farlo. Ora lo registro, ok? Di Facebook. Fuck e Book. Lo hai rifatto. Lo hai appena rifatto. Ascolta. Fuck e Book. Cosa hai appena detto? Fuck e Book. Fuck e Book. Sì. Ma tu pensi che io dica Fuck e Book? Sì. Mentre io so di star dicendo Fuck e Book. Ok. Ascoltami. Ora dimmi come si chiama questo oggetto. In inglese. Si chiama Book. Ben detto. Primo premio. Non toccarmi. E questa invece? Si dice Face. Giusto. Dovresti andarne fiero. Ora di queste due parole insieme. Book Face. Riprova. Andiamo Dean. È semplice. Anche tua nonna ce la farebbe. Non conosci mia nonna. Non sa leggere. Fuck e Book. Perché hai rovesciato il tavolo? Non ci... Un tavolo! Che cos'è un tavolo? Io non... Non so nemmeno cosa sia. Vedi questa pianta? Questo sei tu. Vorrei fossi tu. Hai dato un pugno a un cavolo. È una metafora. La tua faccia. Potrebbe esserlo. Wow. Dean, guarda cosa mi fai fare. Distruzione. Questa è... È tutta colpa tua. La rimetto a posto. Io non ci posso credere. Tutto perché tu... Tu non sai dire Facebook. Io non capisco. È così difficile dire Facebook. Ma ti sei tolto la... Esatto. Non c'è assolutamente nessuna logica in ciò che fai. Separi delle lettere a caso da alcune parole per nessuna dannata ragione. Perché mi fai questo? Perché ti infastidisce Jack? Fuck e Palma.